Oggi l'entusiasmo c'è, come sempre, ma con una vena di testezza infinita. Signori, cosa dire? Uno spettacolo, uno spettacolo, punto e basta. Hanno fatto tanti successi. Con oggi sono 12 anni, che manchi? Ci manca la guida, ci manca l'esperto, ci manca il futtologo, ci manca il re. E niente, è bastato un accenno di primavera e siamo operativi con la tagliata con i peperoni arrostiti. Giusto, un po' di limone è perfetta. E sono tornate, salsiccia a punta di coltello col fior di latte di Vico, salsiccia a punta di coltello, brogola e friarina. Che dirvi, un cavalere d'altri tempi, un uomo che faceva del dolore, della voglia di fare e del conoscere il sapere, tutto il centro del suo mondo. Un grandissimo uomo. E qui ci sono anche i nostri boccocini con fior di latte, pronti. Signori, è sempre lui, vedete? Il nostro maiale perugino. Guardate il colore. Uno spettacolo scolastico inesistente. Ma molto spesso, tantissimi ragazzi laureati, che potranno commentare, se ne avranno voglia, discutevano con lui delle loro tesi di laurea. Un livello di istruzione incredibile per chi alla fine non aveva fatto scolastico. Anche il nostro imbottino è in cantiere, cotto e fior di latte. Praticamente era la nostra personale Wikipedia. Non c'era cosa che ti chiedessi che non sapessi. Ma con adeddoti, storielle, cose divertenti, ti faceva capire delle cose che al momento non erano semplici. Signori, siamo pronti per lo spicchio molto veloce. È molto, ma molto bello. Giudicate voi. La regina è la genovese, ma il resto del banco è uno spettacolo. Dalle tagliate, ai polpettoncini, al nostro brasato, le salsicce farcite, lo spedino, l'involtino appena chiuso, uno spettacolo. Insomma, l'immensa tristezza viene soppiantato dalla gioia. È vero, sono 12 anni che non ci sei più, ma per oltre 30 anni ho avuto il piacere di godere appieno di tutto quello che ero. Grazie, ciao, ciao.